Ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video di monete di valore Bene ragazzi in questo video vi mostrerò quelli che sono stati alcuni dei miei ultimi acquisti Tanti pensano che acquisti soltanto euro ma così non è la mia vera passione Sono le once Qui in questa bellissima valigetta ti mostrerò alcuni dei miei ultimi acquisti Qualcuna di queste once ce l'avevo già da tempo Altre invece sono state acquistate in questi ultimi mesi Bene ti faccio vedere subito qualche pezzo un po' più particolare Poi magari nei prossimi video farò un video dettagliato per ciascuna moneta Se ti ricordi qualche mese fa avevo già fatto un video su questa moneta Una moneta da un'oncia argento puro della saga di Street Fighter di Rio in questo caso Avevo ipotizzato che ci potesse essere una serie di questa moneta C'era giusto qualche voce Secondo me era così E infatti a distanza di qualche mese dall'uscita di questa moneta è uscita la seconda moneta di questa serie Una moneta dedicata a Chan Lee Quindi non ho ancora la certezza ma presumo che ormai si tratti di una serie vera e propria Che è possibile che escano ulteriori personaggi della saga di Street Fighter Nello specifico questa era una moneta da un'oncia normale Mentre poi ho deciso di acquistare anche la versione colorata Davvero davvero molto bella La versione colorata il colore è soltanto da un verso e non dall'altro L'altro verso è sempre normale Quello che posso dirti è che la versione colorata è una versione a tiratura ancora più limitata di quella classica Quindi costa un attimino di più però secondo me davvero molto bella E se sei un appassionato di Street Fighter devi sicuramente averla E questa invece è la seconda moneta della serie ovvero quella dedicata a Chan Lee Ora non so chi sarà il terzo personaggio Spero magari qualcosa tipo Bison oppure Sagat C'è anche Vega che è molto carino Però bisognerà aspettare ancora qualche mese per avere qualche novità in più Poi ti volevo mostrare questo bellissimo leone Davvero molto molto bello In verità sono tutte belle C'è qualcuno che poi è veramente bellissimo Qualcuno tantino meno Però a mio parere poi che adoro le once Ci sono dei pezzi davvero fatti molto molto bene Tipo questa qui con i due pappagallini Davvero eccezionale Poi c'è la serie degli elefanti Che viene fatta dalla Somalia Questa è il modello del 2021 La serie degli elefanti viene coniata ogni anno ormai da tanti anni E qui infatti c'è un'altra moneta della stessa serie Che però è di quest'anno Del 2022 Sono monete davvero molto carine Un po' come la serie del Coca Burra Quella australiana Dove ogni anno viene messa un'immagine diversa E qui nel stesso caso Anche Anche in questo caso Della Somalia Vengono ritratti sempre degli elefanti Però ogni anno c'è un'immagine diversa Poi qui ho la classica Moneta da un'oncia americana Che però È quella dello scorso anno Del 2021 Del secondo tipo Se hai un'oncia Un po' più vecchiotta Sicuramente questo verso Sarà sempre lo stesso Come in questo caso Ma Dell'altro verso Avrai un'altra immagine Questa è l'immagine nuova Delle once Che È iniziato a essere coinata A partire dal 2021 Quelle precedenti Mostrano un'altra immagine Queste sono davvero molto molto belle Una piccola chicca anche questa Poi c'è la serie delle tartarughe Che anche questa è molto molto carina Che però È sempre uguale per tutti gli anni Quindi Diciamo che È la tipica moneta da investimento Viene fatta dal NUE Puoi trovarla di diversi anni E la moneta sarà sempre la stessa Quindi sempre la solita tartaruga Quello che cambierà Sarà l'anno di coniezione Che troverai qui sotto Un'altra serie molto carina Che ho iniziato da poco È quella del Re Leone Ci sono diverse monete Sto cercando di recuperare Quelle che ancora non ho Questa è del 2020 E poi Quest'altra Ancora un po' più carina È del 2021 Quella del 2022 Non mi risulta ancora che sia uscita Devo vedere di recuperare Quella del 2019 Poi come Ho già fatto vedere in un altro video C'è quella di Ritorno al futuro E un'altra Molto molto semplice Ma al tempo stesso Molto carina È questa con l'angelo Di Napoleone Nel retro Diciamo che le onci Sono più o meno Tutte uguali Cambia sempre qualche piccolo dettaglio La parte principale Invece Solitamente È sempre Degna di nota Collochiamo delle onci Che ci sono molti personaggi Famosi Oppure ci sono Degli animali Particolari Tipo Questa qui La tigre È stata fatta perché Nel 2022 È l'anno Della tigre Unita anche questa Molto molto bella Infatti Nel 2022 Esistono Tante once Con tigri Differenti Anche questa Merita 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 Questo è Valiant Non so se riesco a mettere a fuoco I dettagli Ma è davvero Molto bella Ecco C'è il dragone Il cavaliere E il dragone Con Veramente Stupenda E poi Ci sono quelle Un po' più semplici Dove però C'è sempre un animale Tipo questo Col cavalluccio marino Davvero Davvero Fatta bene Poi Alcune once Hanno delle rifiniture Un po' più Particolari Ad esempio Ci sono quelle proof Che logicamente Hanno una tiratura Ancora più ridotta E quindi Hanno anche Dei valori Molto superiori Perché Vengono fatte in tirature Super Super Limitate E i prezzi Sono davvero Altissimi Questa qua Viene fatta da Samoa Questa è del 2020 E probabilmente Farò breve Un video proprio Su questa moneta Perché è davvero Stupenda Bene ragazzi Questi sono solo Alcuni degli ultimi Acquisti che ho fatto In quest'ultimo periodo Ci tenevo un attimino A farveli vedere Giusto perché Mi chiedete sempre Cosa hai acquistato Questo mese Cosa hai acquistato Quell'altro mese Adesso cercherò Da questo momento in poi Di fare un video Magari Darò una cadenza mensile Dove ogni mese Ti mostrerò Quello che ho acquistato Logicamente Adesso andiamo incontro All'estate Non penserò Tantissimo Alle monete Ma Magari In i prossimi mesi Sarà una cosa Che potrò fare Soprattutto Quando andremo incontro All'inverno E Ci si va un attimino A spulciare Le monete che si hanno Non si controllano Quelle che mancano E si Si va ad acquistare Qualcos'altro Continueremo Sempre A parlare Anche di Monete Del Regno d'Italia Parleremo A parlare Un attimino Anche Degli euro Come sempre E ti mostrerò Le prossime Monete Del vaticano